Dopo oltre 30 anni Ezio Ardizi lascia la presidenza della Confcommercio di Pescara. Al suo posto arriva Francesco Danelli, un cambio all'insegna della continuità con Ardizi che resterà presidente vicario dell'associazione. La continuità è necessaria per guardare avanti nel futuro e quindi ci vuole sempre qualcuno del passato che traghetta le proprie esperienze alle nuove leve. Gli obiettivi sono quelli naturali dell'associazione, cioè il bene della città e della sua provincia. Arriva al vertice dell'associazione in un momento ovviamente a livello nazionale non facile per il commercio, per il terzo settore in generale. Secondo lei il futuro, il futuro prossimo, come dicono anche i numeri a disposizione, potrebbe essere più roseo? Sì, ma ci vorrà del tempo, niente avviene così all'improvviso. Occorre anche che le istituzioni aiutino la città a crescere, occorrono vie di comunicazione più rapide, un po' di tutto. Quindi occorre collaborare con le istituzioni affinché questo avvenga. Lei lascia la presidenza di Confcommercio Pescara, ma resta presidente vicario perché questa è un po' la sua creatura. Non emozionato, più alleggerito, penso di meno oggi, perché ho scaricato su Franco Danelli, ma sulla nuova giunta, una serie di responsabilità, di pesi, di oneri. Rimango perché questa creatura ha bisogno di, anche perché, come facevo a dire di nuovo a Danelli, a darmi una mano per un periodo, sei mesi, otto mesi, e poi però, poi però, poi vanno da soli, sono bravi. Otto undicesimi rinnovati, significa che c'è una squadra che ha i muscoli pronti per correre. Noi eravamo datati da virgolette, otto undicesimi e una rivoluzione copernicana.